Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPPILI dove per lavori ci sono rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. Sempre in FIPPILI si ricorda che è chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Per il momento il traffico invece scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Sul raccordo Siena-Firenze è scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!